Allarme del tesoro, anche se le entrate fiscali sono cresciute rispetto allo scorso anno, mancano all'appello 3 miliardi e mezzo di euro. Il Premier Monti annuncia un inasprimento della lotta all'evasione, la Corte dei Conti punta l'indice anche contro la corruzione, avverte troppe tasse provocano recessione. Per i giudici la responsabilità è indiretta, così dichiara l'emendamento del Governo. In caso di errore del magistrato lo Stato interverrà per risarcire la vittima, per poi rivalersi eventualmente sul giudice che ha sbagliato. Intanto nel PDL cresce la fronda contro Monti, ma il segretario del PD Bersani assicura si voterà solo nel 2013. Gli Stati Uniti continuano a strigliare l'Europa sulla crisi anche dopo la teleconferenza ieri dei Ministri delle Finanze del G7. L'Unione agisca subito con misure incisive che diano fiducia ai mercati. È il richiamo dell'amministrazione Obama al quale replica polemico il francese Fabius che domanda, ma Lehman Brothers non era una banca americana? Decine gli impianti idrici lesionati dal terremoto, in Emilia scatta l'allarme, siccità e mentre sale a 26 il numero delle vittime del sisma, la CGL denuncia alcuni imprenditori chiedono a chi vuol tornare al lavoro di firmare un documento che liberi l'azienda da ogni responsabilità in caso di eventuali crolli. Questa mattina nuova scossa. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette. Nessun taglio delle tasse, anzi l'aumento ad ottobre dell'IVA. Queste sono probabili le conseguenze del buco di 3 miliardi e mezzo di mancate entrate fiscali nei primi quattro mesi del 2012. Buco provocato dalla crisi, per coprirlo il Premier Monti rilancia la lotta all'evasione. Sentiamo. E' l'effetto della recessione, ma non solo. Il buco da 3 miliardi e mezzo nei conti pubblici nei primi quattro mesi dell'anno è anche figlio di un'evasione fiscale che rimane una piaga difficile da guarire per l'economia italiana. Eppure le entrate tributarie da gennaio ad aprile 2012 sono aumentate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dell'1,3%. Ma il Tesoro nel documento di economia e finanza aveva fatto una previsione ben più ottimistica e adesso, rispetto alle stime, siamo 2,9 punti percentuali indietro. Così, il tanto invocato pareggio di bilancio nel 2013, obiettivo primario per Mario Monti, rischia di restare una chimera. A farlo intendere è la ragioneria dello Stato, che spiega come agli effetti delle mancate entrate si aggiungeranno anche gli effetti del terremoto, con il prevedibile ulteriore calo di gettito sul fronte IVA e IRPEF, senza contare poi l'incremento delle spese. Nessun allarmismo, spiega però la ragioneria, che rinvia alle entrate provenienti dalla nuova imposta municipale, l'IMU, il momento di un bilancio più attendibile sui conti pubblici. Ma la Corte dei Conti ha fornito cifre, se possibile, ancora più allarmanti. 46 miliardi di euro l'anno, il vuoto di gettito provocato soltanto dal mancato pagamento dell'IVA e dell'IRAP, evasi rispettivamente al 29,3% e al 19,4%. I giudici contabili spiegano come l'elevata pressione fiscale e le troppe tasse possono generare un circolo vizioso che rischia di mettere sotto scacco la crescita del Paese, già asfittica, così come la corruzione vera e propria piaga, in particolare nel settore sanitario. Siamo stati criticati per essere stati troppo duri sull'evasione, ha detto il Premier Monti, ma lo saremo ancora di più in futuro. Allora, difficile il lavoro del governo impegnativo, governo che ufficialmente continua ad essere sostenuto in Parlamento dalla larga maggioranza che l'ha votato sin dalla nascita. In realtà, sotto traccia, sembra allargarsi il, chiamiamolo così, partito di chi vuole elezioni anticipate. A destra, come a sinistra, del governo Monti, si continua a respirare un certo disagio. Il PD è ancora intento a spegnere le ultime ma resistenti ceneri del dopo Fassina, il quale aveva riaperto sulle elezioni anticipate. Il PD, ha detto e dopo Bersani, mantiene il patto e l'assoluta lealtà al governo Monti. Per noi si arriva al 2013, sapendo però che non tutti nel partito, nonostante il rinforzo proposto dal suo vice, Enrico Letta, elezioni anticipate, ha detto la pagheremmo cara. La pensano sotto sotto, come lui. Quel per noi sa molto anche di mani avanti, nel senso che la stabilità non brilla nemmeno su quell'altro piatto della bilancia, quello appunto del PDL, dove gli ex AN, e non solo loro, tifano contro il governo e dove addirittura la Sant'Anché annuncia l'avvio di una battaglia popolare e democratica, finalizzata ad un referendum che chieda agli italiani un sì o un no all'euro. Più che allegitato presente, Berlusconi intanto già pensa al più che incerto futuro. Ci vorrebbe uno alla Gerry Scotti, avrebbe detto infatti l'ex presidente del Consiglio che qualche giorno fa aveva già invocato un altro Ibrahimovic. Scotti si è già chiamato fuori, ma la fantasia è al galoppo. A scatenarla sembrano essere soprattutto i sondaggi che continuano a lanciare nel firmamento il Movimento 5 Stelle e a deludere ogni giorno di più proprio il PDL, nel quale PDL, scotti o non scotti, circolano pazze idee per uscire dall'angolo, con l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso all'opera per il casting di una nuova possibile lista. Partiti che pensano al voto e si dividono sulla giustizia, la Camera rimane in salita, la strada del disegno di legge anticorruzione, al Senato in commissione lo scontro è sulla responsabilità civile dei magistrati. Giornata cruciale quella di oggi per il capitolo giustizia. Due i fronti aperti, il disegno di legge anticorruzione e la responsabilità civile dei magistrati. Ieri il ministro Paola Severino ha depositato un suo emendamento che rimette in campo la responsabilità civile dei magistrati, seppure in forma indiretta e a carico dello Stato. Sarà dunque lo Stato a poter esercitare il proprio diritto di rivalza nei confronti dei magistrati e potrà farlo soltanto nella misura della metà del loro stipendio. Una iniziativa che fa discutere tutti, dal PDL al PD all'Italia dei Valori. Nel frattempo la Camera ha le prese col provvedimento anticorruzione, stamattina l'ultima mediazione possibile con l'ennesimo vertice di maggioranza sul DDL anticorruzione. Se non si raggiungerà un'intesa si passerà al voto di fiducia che, messa oggi, potrebbe essere votata domani, giovedì 7 giugno. Ma il tutto potrebbe slittare ancora, fino a martedì prossimo. Il PD critica il PDL, l'atteggiamento tenuto dal partito in Commissione Giustizia sulla questione della responsabilità civile dei magistrati, definendolo grave e pericoloso, così Anna Finocchiaro, capogruppo PD al Senato. Il capogruppo al Senato PDL, Maurizio Gasparri, invece, sostiene che il Partito della Libertà valuterà ogni passo con la dovuta attenzione, esprimendo vivo apprezzamento per il riconoscimento e la difesa del principio della responsabilità civile dei giudici. Dopo aver evocato l'isolamento economico per proteggere il dollaro dalla crisi dell'euro, la Casa Bianca rilancia e al termine della teleconferenza tra i ministri dell'economia del G7 è a partito appunto dalla Casa Bianca un invito piuttosto esplicito all'Unione Europea a portare qualcosa di, si legge veramente concreto, al prossimo G20 in programma tra un paio di settimane in Messico. Invito, abbiamo detto, appunto piuttosto chiaro che ha provocato a sua volta una reazione polemica in Europa. Vediamo. Washington continua a manifestare le sue preoccupazioni per la crisi ed a bacchettare l'Europa. Ha intrapreso passi importanti, riconoscono gli Stati Uniti, ma i mercati si attendono di più e bisogna fare di più. È una doccia fredda per i ministri finanziari del G7 e dei presidenti delle banche centrali riunite in teleconferenza. Sanno bene che devono agire presto, come chiede l'America, in particolare sui conti in rosso di Atene e Madrid sulla politica rigorista della Germania della cancelliera Angela Merkel e sono consapevoli che per proteggere un'unione monetaria a duratura devono dare fiducia ai mercati sulla volontà politica di superare i problemi dell'eurozona. C'è ancora molto da fare, insiste la Casa Bianca, e gli Stati Uniti invitano l'Europa a seguire il loro esempio per uscire dalla crisi. Sembra già archiviata dunque la luna di miele con il neopresidente francese Hollande. Appena 15 giorni fa, la Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti spiegava, sorridendo, che l'hamburger va a braccetto con le patatine, le french fries. Ora è proprio la Francia a respingere le accuse. Non ha senso rinviare le responsabilità, ha replicato il ministro Fabius. Bisognerebbe chiedere a Obama dove è nata la crisi finanziaria, non certo in Europa. La Lehman Brothers non mi risulta essere una banca italiana né francese. I ministri europei, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, sanno comunque che devono agire presto, come chiede l'America di Obama. E allora, adesso le notizie sul terremoto. Questa mattina c'è stata una nuova scossa, avvertita a largo di Ravenna, alle 6 e 8 minuti, appunto avvertita anche ad Ancona e Pesaro, epicentro nell'Adriatico. Cercheremo nelle prossime ore di capire se questo significa qualcosa, se il fronte si sta spostando quindi ad est rispetto allo sciame che ha investito invece l'Emilia. Non ci sono danni a persone o edifici, critica rimane comunque la situazione in tutta la zona. Per questo vi ricordiamo che ci sono ancora delle iniziative di solidarietà, in particolare allora quella per donare 2 euro, basta inviare un sms al numero 45500. Ecco, con questa iniziativa potete donare 2 euro inviando un sms. Poi un'altra, sempre del Corriere della Sera insieme alla 7, per donare anche cifre superiori in banca. Questo è il numero, IT73L0306905061, ancora un 1, poi per 8 volte consecutive scrivete 0, le tre cifre finali sono 671, la causale da indicare è un aiuto subito terremoto in Emilia. E allora, in Emilia dove ci sono danni particolarmente gravi, gli impianti idrici sono lesionati, è scattato un'allarme siccità, e appunto ci sono problemi di questo genere, problemi per la ricostruzione, e allora andiamo a vedere gli aggiornamenti. Non ce l'ha fatta Liviana Latini, la donna di 65 anni, rimasta sepolta per 12 ore sotto le macerie della sua casa a Cavezzo, già danneggiata dalla prima forte scossa del 19 maggio, e crollata definitivamente dopo quella della mattina del 29. Sale così a 26 il tragico bilancio delle vittime del sisma che ha sconvolto la bassa pianura padana, 350 i feriti, alcuni ancora in condizioni molto gravi. La procura di Ferrara ha aggiunto una decina di persone al registro degli indagati per i morti sotto i capannoni. Dopo la prima forte scossa, in tutto sono una trentina gli inquisiti. Mentre sul tavolo del procuratore di Modena, oltre all'indagine sulle presunte trivellazioni legate al progetto, poi bloccato, del megadeposito di gas a Rivara di San Felice, arriva anche la vicenda del documento finito in mano ai sindacati. Poche righe che la proprietaria della Forum Physique, un'azienda d'abbigliamento di Carpi, ha consegnato ai 13 dipendenti il 4 giugno. Ciascun dipendente che ritiene opportuno continuare a svolgere la propria attività libera la proprietà da qualsiasi irresponsabilità penale e civile, si legge. Una liberatoria per poter tornare a lavorare, sostiene Antonio Mattioli, sindacalista CGL. Come dire, se succede qualcosa sono affari tuoi. I dipendenti quel documento non l'hanno in realtà mai firmato. Si sentono sicuri a lavorare dentro il cappannone, anche se la proprietaria gli ha proposto di lavorare fuori, nei container. Nessun ricatto, siamo stati fraintesi. Il foglio che è uscito era solo una prima bozza, spiega la titolare, e spunta la versione di una liberatoria solo per la proprietà dei muri e non dell'azienda. Ma di documenti come questo sembra che ne girino anche in altre aziende che tentano di ripartire. Tra la voglia di ricominciare per mantenere gli ordinativi e la paura di nuove scosse che darebbero il colpo finale a questo distretto industriale, già così provato. Domani il capo dello Stato andrà nelle zone colpite dal sisma. Inchieste e polemiche. Altre due inchieste che non c'entrano niente con il terremoto riguardano invece due nomi eccellenti, due banchieri. Vediamo. Ettore Gotti Tedeschi e Alessandro Profumo, due dei più importanti banchieri italiani nella bufera. Ettore Gotti Tedeschi subisce una perquisizione su disposizione della Procura di Napoli. Alessandro Profumo, presidente del Monte dei Paschi, viene invece rinviato a giudizio per frode fiscale. Per il numero uno della banca senese, l'accusa di aver aggirato tasse per 245 milioni di euro attraverso una complicata operazione finanziaria, avrebbe camuffato gli utili da dividendo, pagando così meno imposte. Il mio operato è corretto, ha dichiarato l'ex amministratore delegato di Unicredit, rinviato a giudizio insieme ad altri 19 manager. Ho fiducia e ora attendo il giudizio di merito. Diversa invece la vicenda di Ettore Gotti Tedeschi, che non è nemmeno indagato. Per l'ex professore di etica, editorialista di punta dell'osservatore romano, questa volta lo IOR non c'entra. Su richiesta del pubblico ministero della Procura di Napoli, John Woodcock, sono state perquisite la sua casa di Piacenza e lo studio di Milano per cercare carte su alcune operazioni di cui lui sarebbe stato a conoscenza per antichi e stretti rapporti con il numero uno del gigante italiano della difesa, Orsi. E allora, ancora inchieste perché quella sulla Fondazione Maugeri, su quella sulla Fondazione Maugeri dicevamo appunto, ci sono novità. Maugeri è la casa di cura di Pavia, dalle cui casse, secondo la Procura di Milano, sono usciti 70 milioni di euro pagati al lobbista della sanità lombarda, Piero D'Acco, mediatore tra le aziende sanitarie private, la Regione Lombardia. Allora, quali sono queste novità? Nel motivare il loro parere negativo alla scarcerazione di Costantino Passerino, il direttore generale della Fondazione, i procuratori scrivono dei pagamenti riservati anche a favore di esponenti politici o loro familiari. Accordi e modalità di pagamento che venivano definite dallo stesso Passerino, che utilizzava una società a lui riferibile, come canale per far uscire appunto i pagamenti per politici. E nel filone dell'inchiesta, adesso ci trasferiamo, diciamo così, in Vaticano. Ci sono novità appunto sull'inchiesta sui corvi. L'ex maggiordomo del Papa, Paolo Gabriele, imputato per il furto di documenti di Benedetto XVI, sta collaborando con gli investigatori e potrebbe essere mandato al confino fuori dal territorio del Vaticano. L'interrogatorio è durato tutta la giornata. Il maggiordomo di Benedetto XVI starebbe collaborando con gli inquirenti. Paolo Gabriele è accusato di furto aggravato e rischia fino a otto anni di carcere per aver trafugato documenti riservati della Santa Sede. Secondo indiscrezioni, l'aiutante di Camera del Papa avrebbe già fatto i nomi di altre persone coinvolte dentro e fuori le mura vaticane, anche se il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, ha smentito che siano state preparate le rogatorie per accertamenti su cittadini italiani. Padre Lombardi ha anche escluso l'ipotesi fatta dal Corriere della Sera secondo cui Gabriele, una volta scoperto dalla Gendarmeria Vaticana, avrebbe iniziato a collaborare in cambio del perdono papale, da chiedere magari dopo la condanna. Avrebbe accettato così di fare il doppio gioco, continuando a fare da postino per incastrare i corvi, mandanti e complici di questa spy story all'ombra di San Pietro. Non è così, siete liberi di non credermi, ha detto padre Lombardi e giornalisti, ma se scrivete sciocchezze sono solo affari vostri. A Londra ha chiuso il giubileo per i 60 anni di regno di Elisabetta II, celebrazioni terminate con un concerto di musica, musica rock pop, davanti Buckingham Palace. Non potevano mancare due grandi della musica britannica come Paul McCartney e Elton John. Spero che il ricordo degli eventi felici del giubileo illumini le nostre vite per molti anni a venire, dice la regina, ringraziando tutti per l'incredibile dimostrazione d'affetto. Il messaggio fa il giro di radio, tv e internet un'occasione rara. Elisabetta II aveva parlato al paese in questo modo solo due volte negli ultimi decenni, nel 1991 per la prima guerra del Golfo e nel 1997 per la morte della principessa Diana. Il messaggio è stato l'ultimo atto dei festeggiamenti per i 60 anni di regno della regina. Per quattro giorni i suoi sudditi l'hanno portata in trionfo incuranti della pioggia e del freddo. E lei, abituata a non mostrare mai in pubblico le sue emozioni, ieri si è commossa davvero, quando si è affacciata sul balcone di Buckingham Palace insieme a Carlo e William, con le rispettive consorti Camilla e Kate e il principe Harry. Sotto un milione e mezzo di Union Jack, sventolanti sotto la pioggia e in delirio. In cielo sfrecciavano gli aerei della Seconda Guerra Mondiale e le frecce rosse della RAF, volate basse sul palazzo lasciando scie rosse, bianche e blu. Una conferma che la monarchia britannica è quanto mai solida e destinata a sopravvivere, sia che salga al trono il figlio Carlo, sia che diventire invece il nipote William, come la gran parte degli inglesi vorrebbe. Sul balcone mancava solo una persona accanto ad Elisabetta, il marito Filippo in ospedale per un'infezione alla vescica. Sta molto meglio, ha detto il figlio Edoardo, che primo della Royal Family è andato a trovarlo. Gli auguri sono arrivati da tutto il mondo, i presidenti vanno e vengono, ma il regno di Sua Maestà dura ancora con l'augurio di durare ancora molti anni, ha ospicato Barack Obama. E allora, adesso lo sport con la bella impresa di Sara Errani, tennista azzurra a Parigi, al Roland Garros, ha conquistato la semifinale del prestigioso torneo, la 25enne romagnola, nei quarti ha battuto nettamente Angelique Kurkerber, 24enne mancina tedesca, numero 10 del mondo. Match strepitoso, quello della Errani, che si è imposta in 2-7, 6-3-7-6. Da ricordare che Sara è in semifinale anche nel torneo di doppio, sempre a Parigi, insieme a Roberta Vinci. A Parigi potrebbe ripetere le imprese, la Errani, imprese recenti di Francesca Schiavone, che lo ricordiamo ha vinto nel 2010 e lo scorso anno ha raggiunto anche lei le semifinali. Ed ora il calcio con la nazionale, che è sbarcata in Polonia, mancano ormai pochi giorni all'Europeo, che parte venerdì con la sfida d'esordio tra Polonia. e Grecia. Dal diario del primo giorno in Polonia, la notizia più corposa è che gli azzurri potrebbero aver trovato quel fattore in più che nel calcio si chiama il dodicesimo in campo. Travolgente l'abbraccio della gente di Gracovia, all'Italia e Balotelli, che senza giacca, sembra voler mostrare i muscoli, nonostante un leggero affaticamento che però non gli ha impedito di allenarsi. Scene di entusiasmo per tutte le età, con la voglia esibita di credere nella nostra nazionale, stritorata dalle avversità e che non sa più vincere. Qualcuno addirittura pungola al CT con l'equazione. L'Italia nella tempesta, l'Italia in trionfo. Tengo le mani alte, non mi piace questo giochino, perché non è così, avremmo voluto arrivare con serenità diversa, però abbiamo tanta forza d'animo, quindi non ci scoraggeremo. È curioso riscoprire questa squadra che lo convince per la disponibilità ai cambiamenti e dice di non avere dubbi. Ha dovuto fare il parafulmi in un vortice pazzesco di eventi. Mi sono reso conto che facendo il CT, qualsiasi cosa si dica, prendo sbella destra e sinistra. Perdere i giocatori cambiando strategie non è semplice. Barzagli sicuramente non ci sarà domenica con la Spagna, ma l'orientamento è di recuperarlo fino all'ultimo. Allertato a stori, la difesa 3 dovrebbe essere il nuovo corso per superare le difficoltà ed è stata provata ancora con De Rossi centrale. Con il romanista l'idea di proporre Bonucci e Chiellini se offrirà garanzie o pruogbonna. Esterni Maggio e Balzaretti, Mezzo Pirlo e Marchisio e la sorpresa potrebbe essere Nocerino. Un 3-5-2 con gli artisti Cassano e Balotelli. E allora vi ricordo la notizia della scossa di terremoto a largo di Ravenna. Punto 4, punto 5 la magnitudo. Non ci sono danni alle persone e agli edifici ma è stata avvertita in tutte le zone anche in Emilia e a Modena appunto dove ci sono state devastazioni e morti. Allora, per gli aggiornamenti il sito tgla7.it prossima edizione del telegiornale alle 13.30. Adesso dopo una breve pausa per la pubblicità ci sono le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona a seguire Omnibus il dibattito. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.